Siamo andati precipitando in una situazione molto grave perché tutti hanno paura che Israele attacchi e a questo punto sarebbe una catastrofe dove sarebbero convolti prima gli Stati Uniti e noi con loro. Però io mi auguro che ci sia una ragionevolezza di fronte all'entità della catastrofe che non sarebbe come l'Iraq, con l'immaginamento dell'Iraq, sarebbe una catastrofe ben più generale e tutto benissimo a noi stessi con il petrolio che andrà dalle stelle in una situazione di crisi economica globale, è chiaro che sarebbe veramente grave. Evidentemente per Israele, questo è stato nell'isolamento in cui Israele si trovava, è stato come dire, e sarebbe un colpo liberatorio nel senso che a questo punto tutti non possono che stare dalla parte di Israele. Però con quali, voglio dire, secondo me la prima vittima sarebbe proprio Israele perché questa sarebbe la fine di Israele. E quindi secondo questo io penso che la ragionevolezza impedirà che si faccia una cosa così. Però questo è un periodo molto delicato perché è il periodo in cui gli Stati Uniti sono, voglio dire, con le mani legate perché c'è un periodo di elezioni. Ci sono elezioni in Iran dove c'è questa, anche se chi vuole trattare con l'Iran in questo momento non saprebbe con chi trattare perché c'è una tale lotta di poteri all'interno, fa due fazioni e forse anche tre, che rende impossibile la trattativa perché se, voglio dire, si sa per esempio che Ahmadinejad alla fine vorrebbe trattare perché questo gli darebbe un tale consenso nel paese che lo renderebbe più forte, gli altri non lo permettono. Quindi c'è una situazione veramente complessa.